Prima vittoria in campionato per l'Acqua e Sapone M Gross e secondo pareggio consecutivo per il Pescara. La seconda giornata di A1 regala alle due cugine del Futsal Abruzzese risultati positivi e di certo così per il team di Massimiliano Bellarte che ha debuttato molto bene al Palaroma di Montesivano fiaccando subito la resistenza del Real Rieti, degli ex Montesivanesi Marzio Forte e Rogerio e degli ex Acqua e Sapone Davi e Silveira. Una partenza sprint tutta targata Cristian Borruto, l'asso argentino che ha lasciato la Spagna dorata per riapprodare in terra adriatica sposando il nuovo progetto Acqua e Sapone M Gross. Reatini, Coriace e i proprio due ex signano il pareggio, Rogerio e Davi ma come l'inizio di frazione anche la fine del primo tempo è produttiva per l'Acqua e Sapone che prende il largo con Caetano, Murilo e Calderoli. Ripresa praticamente interlocutoria nella quale Murilo fa doppietta e il Reatino Crema fissa il definitivo 6 a 3. Il Pescara porta a casa un punto dal Palagems di Tordiquinto, casa della Lazio in sé per sé non sarebbe da disprezzare ma il Pescara subisce ancora una rimonta alla squadra di Patriarca non è bastato andare in vantaggio per tre volte la prima di due lunghezze per tornare a casa con l'intera posta mattatori Nicologi, autore di due gol e mezzo e l'ex Acqua e Sapone Hector, autore di una tripletta. I due bomber si scambiano due gol per parte nel primo tempo nella ripresa ancora botta e risposta gol dell'ex Adriano Foglia e autogol di Patrizzi per gli abruzzesi il solito Hector e Parrel per i padroni di casa nel primo tempo espulso Morgado Questa sera il quadro della Serie A sarà completato con il recupero di Napoli marca alle ore 20 prossimo turno abbordabile per gli abruzzesi Pescara ospiterà Martina Acqua e Sapone Emegros in trasferta a Napoli